L'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato. Queste parole sembrano che vogliono solo ferire, ma vi assicuro che queste parole sono intense, intrinseche di amore. La volontà di Dio nel mettere a nudo la situazione è quella di parlare al cuore di questi popoli, ma davanti a quelle parole dure quel popolo si pentì, non aveva l'obbligo Dio di parlare a Edom, poteva benissimo distruggerlo, ma queste parole servivano affinché questo popolo potesse umiliarsi davanti al Signore e potesse comprendere che quelle sue posizioni erano posizioni che lo stavano portando alla morte e alla distruzione completa. Vedete questo popolo, si sentiva inespugnabile, inattaccabile. Questa posizione così in alto gli permetteva così di essere tranquillo nei confronti dei suoi nemici. Ma l'orgoglio, questa sicurezza nelle proprie forze, nella propria abilità, questa certezza di aver trovato dimore sicure, non avevano fatto altro che isolare questo popolo, questo popolo che adesso era sotto tiro, sotto bersaglio da tutti gli altri popoli. E questo ci porta a considerare che è vero che viviamo in un contesto difficile, è vero che il mondo va sempre di più alla deriva, è vero che sentendo certi discorsi, certi modi di parlare e anche questo senso di arroganza superbia con cui l'uomo si pone nei confronti di Dio stesso ci fa inacerbire. Certo, è vero, noi come loro eravamo perduti. Siamo chiamati a testimoniare, a predicare, a scendere da certe posizioni che ci fanno stare troppo sereni, troppo sicuri, troppo rilassati. Ma qual è la tua condizione adesso? Stai servendo il Signore? Stai proclamando la verità di Dio in questi ultimi tempi. Dici in cuor tuo chi potrà farmi precipitare a terra. Vedete in che modo Edom ostenta la sua sicurezza. Ma oggi Edom non c'è più. Questo popolo è stato distrutto a motivo proprio della sua superbia, della sua arroganza. Il tuo cuore ti inganna, Edom.